Ciao a tutti, mi ha dimenticata o mi pensa? In questo video interattivo potrai capire se la persona, se l'uomo che ti interessa in questo caso, ti ha dimenticata o ti pensa. Prima però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Termasco. Ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare e abbonandoti potrai ricevere delle risposte precise e mirate alle tue domande. Adesso veniamo al tema, mi ha dimenticata o mi pensa? Allora, veniamo dunque al tema, mi ha dimenticata o mi pensa? Quello che devi fare è scegliere o il colore rosso, o il colore nero, o il colore blu. Quindi mettiamo via il colore blu, mettiamo via il colore nero e partiamo dal colore rosso, mi ha dimenticata o mi pensa? Allora, veniamo il colore rosso. Allora, abbiamo a che fare con una persona che in realtà ti sta facendo un dono, ti sta donando qualche cosa. È una persona che in realtà ti pensa e ti vede anche come una situazione importante. Quindi sicuramente c'è una positività, c'è anche un'attrazione nei tuoi confronti. Quindi questa situazione diciamo che è prevalentemente positiva. Dobbiamo dire che c'è una prevalenza di positività piuttosto che di negatività. Quindi direi che le cose da questo punto di vista viaggiano sui binari giusti. E infatti viene proprio anche la conferma. Sì, ti pensa e ha intenzioni anche serie nei tuoi confronti. Quindi ha delle intenzioni molto positive. Quando la risposta è così positiva in tutti i sensi, diciamo che andiamo oltre. Perché continuare a chiedere a qualcuno che ti ha già risposto ampiamente, ti ha dato già un segnale molto ampio, preciso, è evidente che non ha senso andare avanti. Quindi andiamo alla seconda stesa, che è la stesa nera. E vediamo se questa persona ti pensa, che intenzioni ha, eccetera, eccetera. Allora, veniamo alla stesa nera. Ma sicuramente, diciamo, guarda un po' dall'alto in basso se vogliamo. Una persona che non sta mettendo tutta questa energia forse nei tuoi confronti. Ti guarda un pochettino dall'alto in basso e non ha tutta questa intenzione, diciamo... E rimane distaccato, diciamo, distaccata. Non entra, se vogliamo, in un contatto poi eccessivamente coinvolto, diciamo, verso di te. Ha, diciamo, più un'amicizia. Ecco, questo è il messaggio che ti sta dando gli oracoli. Una persona che rimane distaccata ti vede più come un'amica, non ti vede come una... Potrebbe essere anche una tromba amica, ma non sicuramente come una compagna di vita, insomma. E questo è quello che devi tenere presente in questa situazione. Bene, per quest'altra stesa è tutto. Veniamo alla stesa nera. Scusate, alla stesa blu. Nel frattempo, iscriviti al canale. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare. E abbonando ti potrai ricevere delle risposte decise e mirate alle tue domande. Veniamo alla stesa blu. Allora, beh, è una persona che ha, diciamo, vive la purezza verso di te. Cioè, non è sicuramente una persona che ha una situazione negativa, ma anzi vive una relazione, tra virgolette, pura. Quindi benevola. Vorrebbe anche mettere le cose a posto, diciamo, da un punto di vista più formale. Quindi ha questa caratteristica. Sicuramente è una persona che ha un buon coinvolgimento, un buon attaccamento nei tuoi confronti. E ha anche gratitudine. È una persona che di fatto ti è anche grata. E questo crea un legame soldo, un legame positivo e un'abbondanza, fondamentalmente. Quindi è una persona con la quale si può comunque costruire qualcosa e realizzare qualcosa. Quindi vedo tutto in modo molto positivo. Bene. Per questo altro video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Iscriviti al canale. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare. Abbonandoti potrai ricevere delle risposte precise e mirate alle tue domande. Ciao a tutti.